Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra, godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria.